Il presidente, se no prima, come tutte le valli, la dippere tra Pralli e la Val Chisone, e a Val Chisone è arrivato Agnelli e lui, come si può dire, quasi con soldi, c'è un produsimento della Val Chisone. E l'incontrario, anche se avevano soldi, ma hanno fatto partecipare la popola polonia. La differenza, il vero tempio è questo qua, il suo fascino, delle radici, quello che è successo qua, con tutte le preghiere. Io non so, volete andare a vedere il tempio o no?